ciao ragazzi benvenuti in un video ASMR sappiate che mi sento veramente scema molto scema a fare un video del genere ma non voglio questo è un video social eravete chiesto? sto girando con l'iphone perchè voglio avere un audio più forte che lo voglietta ed ho messo una luce su su comunque oggi faremo una schicca insieme primo step andiamo a struccarci con questa fantastica e la uso da circa una settimana questo truccante di betterry bifasico è uno degli struccanti bifasici che ho appena provato perchè non c'è troppo la pelle e io odio quelli che ti lasciano la pelle troppo unta e visunta questo è un truccante è bellissimo anche da vedere ok andiamo a shakerarlo andiamo di scherzo e andiamo a e andiamo a truccarci il peso e andiamo a truccarci il peso e andiamo a truccarci il peso guardate guardate che ha già tolto praticamente tutto ora diventerò sempre più scena monomano che il trucco va via ma vabbè sono disposta a farmi vedere così va bene comunque io ora io ora non so se onestamente sapete che mi piace che ora la faccio cerco di starci per me quindi ora io non so se questo struccante tra l'altro delicatissimo è un brucio per mettere gli occhi e io sono abbastanza delicata so se come si chiama lo struccante bifasico vada risciacquato probabilmente si ma questo è un video e qui non ho l'acqua per cui facciamo che non lo risciacquiamo questa volta io vi dico la verità le volte precedenti non l'ho mai risciacquato perchè in tappo ha una bella sensazione di pelle idratata morbida adesso per struccare bene la zona sotto all'occhio la cima inferiore dovrei prendere un copo in fiocca e darci con quello ma dato che questo è un video ASMR rilassante o che se totale non è sempre il caso di stare a fare questi passaggi adesso sempre di Byterry vado a prendere questo balsamo sempre nella stessa linea le rosa che adoro adoro Byterry è uno dei miei brand preferiti e il vostro consiglio è questo qui Byterry e si chiama Pound Rose vi lascio sempre il link in descrizione come se vuoi vi lascia di non magari qui vi scinando il nostro balsamo Adesso ragazzi Andiamo ad applicare il siero Sapete già non ne ho parlato Quello di Estée Lauder, l'Advanced Hair Repair Che è il mio siero preferito Di sempre Lo andiamo a stregare nelle mani E ad applicare sul riso Di questo prodotto Già vi ho fatto una flash review Qualche giorno fa E ve lo faccio vedere all'opera Come infusore di sieri Perché questo serve principalmente Ad estrarre sebo E punti neri Ma in questo caso lo utilizzeremo come Infusore di sieri Visto che il suo secondo ruolo Grazie a tutti o o o o o o o o o Da una sensazione sulla pelle veramente rilassante Leggermente calda Dopo questo stoppio la pelle liscia come l'oculetto di un bambino Ora vado a mettere una cecciolaca che vi lascerà senza parole Ebbene sì, questa è una maschera a infrarossi Che serve praticamente a contrastare i segni dell'invecchiamento E vi ricordo che anche se non siete anziane Questi prodotti è bene utilizzarli prima di vedere rughe o linee sottili Perché servono sostanzialmente a prevenire Vanno a lavorare a fondo sulla pelle La rendono più giovane, più o meno, è un prodotto che costa un po' è vero Però io l'ho utilizzata da quasi 3 settimane Devo dire che i risultati li vedo tutti E non vi dico sciocchezze anche perché vedete da voi Che veramente è una bella pelle Perché mi piace prendermi in cura Mi piace starci dietro, provare prodotti nuovi E in ogni caso ora questo trattamento durerà 10 minuti Quindi ci vediamo al prossimo step Trattamento terminato Va tenuto su appunto 10 minuti Già dalle prime 3-4 settimane Vedete i risultati Ovviamente sono risultati a lungo termine Non a breve termine Fatto questo vado a darmi una spruzzatina di Flex Plus All'acido ialuronico Che subito mi rende la pelle liscia Radiosa e morbida Adesso vado a prendere una di queste capsule di Elisabeth Arden Che è un siero all'acido ialuronico Queste capsule contengono un siero all'acido ialuronico Che sono monotosi Le ho sentito parlare benissimo E io è la prima volta che lo utilizzo qui con voi Vado a spalmarlo un po' e applicarlo col mio rullo Questi rulli sono diversi E uno anche all'aciata Le servono anche in questo caso A far penetrare a fondo il principio attivo E a passaggiare tutta la zona Per quindi stimolare la microcircolazione Ora sono indecisa su quale contorno occhio utilizzare Vediamo entrambe manotoscopi differenti Dato che domani devo truccarmi Credo si Utilizzerò questo di Clinique Che ha una consistenza Una texture meno ricca Dell'altro ma molto più idratante Il contorno occhio solitamente l'ho utilizzato prima ragazzi E' uno dei primi step Ma questa volta Vi ripeto È un video ASMR Quindi faccio meno attenzione Alla parte tecnica Della skin care E le robe che ho ascoltato La mia tour Dopo averlo steso Diciamo Dopo aver steso la parte maggiore Vado a prendere questo Che è una roba fighissima È un set di Alitecnique Che all'interno conteneva 4 Forse 5 pennelli Da utilizzare per la skin care Tipo questo Per assorbire e decongestionare Per assorbire il contorno occhio E decongestionare la zona dell'occhiaia E' rilassantissimo Perché è freddo Fresco Non fastidioso E quindi ti senti proprio Dio stupendo Poi c'era tipo il pennello Per applicare la maschera Insomma Ti trovo il link Perché mi sa che era una sold out Ve lo lascio in descrizione Vero straconsiglio Vado ad applicare anche Del patch occhi Il mio preferito Starskin è uno dei brand preferiti Per quanto riguarda Maschere viso Monomuso Patch occhi E ne ho usate diverse Negli anni Mi sono piaciute sempre Tutte Non le mani troppo sporche Sono veramente Zippissimo Adoro Anche belli grandi Ecco Così si sceglie Anche un po' Cattivo Il contorno Occhi Viene assorbito E penetrato Nel First impression Raga Sono zuppi Belli sottili Quindi è un nitrogel Sottile Vediamo il risultato Tornando ad Elisabeth Vado ad applicare La crema Eye Tower Cream Skin Protection È una crema Riparatrice Protettiva Per la pelle Anzi un balsamo Protettivo Riparatore Per la pelle È un classico Trattamento Skin Che è ridata Protegge Straordinariamente La tua pelle In qualunque modo Il momento Tu voglia È anche multioso Perché c'è scritto Che si possono modellare Le sopracciglia Lenire le irritazioni Trattare le mani Le cuticole Insomma Anche scottature solare Eccetera Eccetera È un portento Quindi secondo me Questo non va applicato Proprio a tutti Tutti i giorni Ma solo all'occorrenza Dato che ora Sto facendo La skin care Più Accurata E approfondita Ovviamente Questi passaggi Non li faccio Sempre e sempre Tipo un paio di volte Ma solo un paio di volte A settimana Wow Ora facciamo passare A qualche altro minuto Con i patch E andiamo a toglierli insieme Vediamo il risultato Non è passato Cerca 10 minuti Quindi andiamo a rimuovare il patch Wow Mamma mia Raga Ha Zorilis Ti va 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 Torni Langford non mi spalzano proprio proprio a capo, troppo in avanti bene ragazzi come vi anticipavo non sono in grado di fare video di snr non credo che potete avere la delicatezza e gli attrezzature di non esserne portate però diciamo che era anche un pretesto per farvi vedere anche la mia schiena visto che spesso volete fare anche complimenti per la mia pelle la mia pelle è un prodotto che io utilizzo che adoro e sarebbe molto nuovo come dicevo vi lascio in descrizione nel caso vi abbia incuriosito qualche prodotto ci vediamo al prossimo video e ciao